Capodorlando Capodorlando Calvani decide di premiare con lo starting five il giovane Cantone, la cui grinti in allenamento deve aver convinto più dell'esperienza di Demirel. Turnover per Atten, in campo viene schierato il nuovo acquisto Williams, è un debutto inglorioso, il giocatore sul quale erano puntati tutti gli occhi del palamangano con la speranza di infondere una scossa fallisce il debutto sul parcheggio europeo con una prestazione davvero opaca. I siciliani iniziano con un buon ritmo, una buona circolazione di palla, gli assist di Pozzecco e le penetrazioni di Diner mettono in crisi la molle difesa giallo-blu. L'Orlandina piazza subito un break di 9 punti. I giallo-blu resistono poco, sotto canestro con Killisworth, che fa registrare nei primi due periodi 12 dei suoi 14 punti finali. Poi sparisce anche lui nell'anonimato. Il problema della Leggea rimane il perimetro. Scafati fa registrare dall'arco dei 6-25 una percentuale strappalacrime pari al 23%, rispetto al 75% degli ospiti. A rientro nulla cambia. La Leggea continua a sbagliare mentre tra le fila bianco-azzurre sale in cattedra Wallace. Di triple in tripla scava un solco sempre più profondo. Ad inizio dell'ultimo periodo si apre uno spiraglio. Un break di 10-0 per i padroni di casa, complice un'antisportiva e la successiva espulsione di sleigh. Ma gli ospiti controllano agevolmente il vantaggio. In sala stampa, Coccio Calbani, all'area di Chissà che la strada è lunga ed è in salita. Si comincia da subito. Da questa settimana la squadra va in ritiro. Come ho detto la partita, sono soddisfatto perché abbiamo fatto un primo tempo molto bene l'attacco, con buona fluidità. E su queste cose qua non abbiamo permesso questa scarica di adrenalina che probabilmente doveva arrivare col cambio dell'americana e col cambio dell'allenatore. Siamo stati però, penso, in un modo diverso da come siamo noi, bravi all'inizio del secondo tempo a non permettere di entrare in partita la squadra. Abbiamo difeso bene, non gli abbiamo regalato niente. Abbiamo creato questo gap che poi si è dilattato. C'è veramente poco da commentare. Una partita inqualificabile, non ci sono parole per poterla qualificare. Che era una situazione difficile, lo sapevamo. Che di lavoro da fare ce n'era tanto, lo sapevamo. E quindi credo che ci siano poche parole da dover fare e stare in palestra e lavorare più di quello che abbiamo fatto in questa settimana. Sapevamo che era una situazione non facile per tanti motivi. Sicuramente stasera tutti quanti, io per primo, ci saremmo aspettati in prestazioni diverse. A volte si cerca anche di cercare di guadagnare qualcosa, nel senso che se Cantone va in campo nei primi minuti della partita, non credo che possiamo dire che abbia fatto dei danni. Anzi, rispetto ad altri ha avuto sicuramente un atteggiamento positivo. Era un modo per cercare di motivare un giocatore che sapevamo che aveva motivazioni, un ragazzo che aveva motivazioni, e guadagnare un Dimitri Lovers dalla panchina. Il problema è che però ci debbonessero anche gli altri. Non può essere Cantone e poi mancano gli altri quattro. Gli altri quattro sono mancati, cominciando da Williams fino ad arrivare a Kinniswa al sottocanestro. Per dirgli tutti quanti, il playmaker è pure.